Ciao ragazzi, per il Bari sconfitta annunciata, si era capito durante la settimana che sarebbe stata una sconfitta annunciata perché non è stata preparata a dovere questa partita, mi dispiace. E niente, una sconfitta che un po' ci ridimensiona perché le altre stanno andando a velocità molto alta, parlo di Cagliari e Genoa. E iniziamo da questo, cioè Mignani ha scelto lo zoccolo duro del Bari, è stato poco coraggioso perché non puoi partire ancora con Botta, Mallamo dal primo minuto, che è un interditore del Forte quando entra dalla panchina, sono abbastanza incazzato. Una partita inguardabile, nel senso che la Ternana è una squadraccia, perdere con questa squadra non ha proprio senso. Una squadra che non ha fatto niente per tutta la partita e hanno soltanto fatto un po' gli spavaldi. Ci sta, nel senso, noi abbiamo fatto niente, nel senso nel secondo tema abbiamo ottenuto la palla, ma non abbiamo vinto un contrasto oggi, non abbiamo vinto un contrasto, non siamo riusciti a mettere nemmeno un cross in mezzo, Benedetti spara i cross in curva, abbiamo avuto un calcio d'angolo, un miracolo, l'abbiamo sparato fuori, cioè una sufficienza, un'approssimazione del Bari imbarazzante, non ti puoi presentare così. Gravi errori, secondo me, proprio sulla squadra messa in campo, perché Benali è un giocatore tecnico, è un giocatore che deve giocare, deve giocare a posto di botta. Benali deve giocare a posto di botta. Mignani, va bene, metti Benali, facci vedere Benali perché è un giocatore forte, oggi non abbiamo fatto niente fuori casa, non abbiamo fatto niente, una partita inguardabile, non abbiamo vinto un contrasto, siamo arrivati sempre ai terzi sulla palla, non abbiamo fatto niente oggi, va bene, una partita sotto tono, una partita, ora direi che secondo te abbiamo fatto qualcosa, non riusciamo a mettere un cross, se riusciamo ad andare sulle fasce, è Benedetti che per grazia del Signore riusciamo a mettere un cross e questo cross me lo fai sparare in curva, mi spieghi a cosa serve, che Dira non riesce più a toccare un pallone, non abbiamo profondità, non abbiamo playmaker, giochiamo senza trequartista, Moracoli è entrato bene, Benali è entrato benissimo, ma anche Esposito perché non ce lo fai vedere più Esposito dal primo, Schiedler è messo dal primo oggi, non è riuscito a controllare una palla nel primo tempo, non è riuscito a controllare una palla, quindi questo è ragazzi, quanto abbiamo? Abbiamo tutto, abbiamo fatto più o meno possesso palla in parità, Tiri in porta 8 per il Bari, 8 per il Bari, io non li ho visti se Tiri in porta, però che vi devo dire, forse anche i cross che il portiere prende sono Tiri in porta, no Tiri in porta 2 per il Bari, 2 per il Bari in porta, ecco perché non mi ricordo Tiri in porta, un Bari insufficiente, inadeguato, una sconfitta annunciata oggi perché Lucarelli aveva caricato molto l'ambiente e non siamo stati capaci noi di rispondere, hanno giocato una partita furba, secondo tempo non hanno toccato un pallone, hanno giocato sempre in difesa, non siamo riusciti a mettere una palla, Antenucci ha fatto una buona azione da fuori aria, ma quando arriviamo a Antenucci deve inventarsi un gol da fuori aria, vuol dire che siamo al fritto, siamo alla fine, e niente, ragazzi, non so che dirvi, secondo me siamo fuori dalla qualificazione diretta, quello che ci stanno facendo capire in tutti i modi, io sono abituato ad essere realista, qua era molto più giusto un pareggio in questa partita, ma alla fine ci prendiamo questa sconfitta, una sconfitta, ripeto, annunciata perché non puoi presentarti in campo con così, oggi il mister stranamente rispetto alle altre partite non ha avuto coraggio perché mi aspettavo almeno un Benadio al primo minuto, un Moracchioli, un Esposito, insomma, le nuove leve che sono arrivate, invece è partito con lo zoccolo duro, è partito con Maita, Benedetti, Maita, Benedetti, è partito con Botta, Botta e Mallamo, quindi è partito con lo zoccolo duro dietro, davanti è partito con Schidler, che dirà, è una partita molto negativa, io ho almeno un po' di coraggio di rischiare Benali, che è un giocatore che comunque fa gioco, è un giocatore tecnico, è un giocatore che tiene palla, è un giocatore che quando sono entrati Benali, i Moracchioli, abbiamo visto un po' di controllo, abbiamo visto un po' di tecnica in campo, ma se Moracchioli c'ha tecnica, anche se fa solo quel ruolo, ma fallo giocare, sto Moracchioli dal primo minuto, facci vedere Esposito che ha fatto i De Grae in gol, e ci propini sto Schidler di mettere gli ultimi 10 minuti, là è bravo, perché è forte fisicamente, gli ultimi 15-20 minuti ci fai vedere Schidler, ma la primo minuto metti, ora non voglio fare il tifoso che parla, la formazione che è scesa in campo non è stata adeguata, perché Caprile ha fatto un miracolo a 15esimo minuto, altrimenti andavamo già sotto a 15esimo minuto, quando un portiere fa un miracolo deve essere un campanello d'allarme per la squadra, invece niente, li abbiamo fatti giocare, come ho detto nel signo short tra il primo e il secondo tempo, quando attaccavamo sembriamo 3 contro 20, quando difendiamo sembriamo 3 contro 20 uguali, cioè sembrano sempre che ci siano 10 giocatori della Ternana e pochi di noi, niente, mi sa che abbiamo pareggiato in casa all'andata, ci ha tolto 4 punti, la Ternana, ora, i nostri tifosi avversari esulteranno, ma ricordo a tutti i bla 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 chioni, i babbacchioni che parlano Genoani o Ascoli o Frosinone, che il Bari ha un giocatore di Serie C e una neopromossa, quindi, ok? Ok? Remember, remember, va bene così, va bene così, vedo che la squadra ha accettato la sconfitta, ci prendiamo questo 0-1 a Terni, magari 0-1, ci prendiamo questo 1-0 a Terni, che ci ridimensiona, secondo me, che allontana la possibilità del Bari della qualificazione diretta, tranne se non dovessero avere un exploit, però anche le ultime partite che abbiamo vinto, a nord del Viro, non abbiamo dimostrato tutta questa superiorità in campo, come se l'ha vista in un genere d'andata, come se l'ha vista in un genere d'andata, c'è molta furbizia adesso, molto tatticismo, però la furbizia e il tatticismo, se ci portano a perdere partite del genere, annunciate, ripeto, annunciate, perché, perché, annunciate, perché ve l'ho detto, in settimana, Lucarelli ha caricato molto l'ambiente, noi no, stiamo calmi, stiamo calmi, stiamo calmi, Miliani si è pure lamentato del fatto che a Bari ci fosse un po' di ambiente caldo, ma l'ambiente caldo devi dire grazie, l'hai creato te, l'ha creato la squadra, ma con questi nuovi innesti, io dico, non puoi entrare in campo, primo minuto con Malamo è in botta, li fai entrare dopo, Malamo è in botta, non puoi entrare con Malamo è in botta, mi fai giocare Benal, mi fai giocare Moracchiori dal primo, mi fai giocare Esposito, mi fai giocare Molina, mi metti qualcosa di nuovo, qualcosa a chiudora di Serie A, ok? Qualcosa a chiudora di Serie A, visto che Benal i campionati li ha vinti. Questa era la mia, poi loro hanno fatto una partita, al secondo tempo, Mancola, San Benedittesi di Castrocaro, di San Giuliano del Monte, perché alla fine giocavamo con la Ternana, hanno fatto sto gol a Spizziche e Bocconi e poi si sono affidati al caso perché questo è un Bari un po' più convinto, con un più possesso di palla, con una volontà di cercare dei vie centrali, avrebbe messo più in seria difficoltà questo Terni. Invece siamo un po' col freno a mano anche oggi e non vogliamo spingere. Per non parlare degli errori tecnici, ragazzi, a go-go, Puccino oggi inguardabile, 3 e mezzo, 4, Puccino inguardabile, non si regge sulle gambe, non riesce a mettere un cross, Benedetti ha corso tanto, ma ha fatto errori paurosi, tecnicamente parlando, siamo arrivati sempre a secondi sul pallone fino all'entrata in campo di Benali e Moracchioli che hanno dato, Benali ha dato una certa quadratura, ora questo Benali, se vuoi fare un favore al Bari, Mignani, metterlo sempre al titolare, fallo o falli fare il trequartista, Benali, ci togliamo il pensiero, Benali è fisso, Bell'uomo è entrato bene, ma Bell'uomo è entrato tardi e Benali e Bell'uomo hanno dato un po' più di brio, più di controllo palla, più di protezione della palla, no? No che ogni volta che perdiamo palla, ogni volta che teniamo palla la perdiamo, ogni volta che recuperiamo palla noi dopo 3 secondi la perdiamo, va bene, dai ragazzi, iscrivetevi alla prossima, alla prossima, cheers, da bella via, iscriviti al canale e fammi sapere cosa ne ha piaciuto il video, ciao, cheers.